Sindaco Marco Zambuto, quanto è forte l'importanza di un collegamento diretto con l'Europa per un territorio come il nostro? Io che faccio il sindaco so quanto sia importante fare il sindaco e avere un collegamento diretto con l'Europa, perché oggi l'Europa rappresenta l'unica istituzione in grado di poter dare risorse finanziarie necessarie per dare una svolta ai comuni che sono in una grande difficoltà economica e finanziaria. Quindi il territorio e l'Europa sono assolutamente inscindibili per una Sicilia che vuole finalmente guardare avanti. I comuni sono ridotti all'osso dal punto di vista economico e finanziario, in questi anni la mia amministrazione, io sono riuscito a sanare il comune di Agrigento e finalmente a dargli una prospettiva, ma oggi la Sicilia intera ha bisogno di un'Europa più vicina, Europa che fino ad oggi è stata irraggiungibile. Quanto è importante il collegamento con l'Europa per un territorio come il nostro e quanto è importante la figura di Marco Zambuto per un'eventuale sua elezione al Parlamento europeo? Marco Zambuto è uno tra i sindaci più amati d'Italia e ci sarà un motivo. Ha interpretato la sua città, ha capito e ha dato il massimo possibile raggiungendo risultati straordinari che oggi lo pongono proiettato verso l'Europarlamento. Per noi è un esempio, questo ci fa dire che siamo nella strada giusta perché noi vogliamo ripercorrere un'esperienza del genere, quindi un'esperienza che si occupa del territorio, che lo risani e che gli dia nuovamente la possibilità collegati con l'Europa finalmente di poter raggiungere quelle posizioni che sono d'obbligo per una città importante come Mazzara.